signorina lei ha detto che l'assassino si introdusse nella sua casa entrando da una finestra sì le l'ho già detto fra l'altro l'appartamento è situato nella zona blu dove non c'è traffico e c'è silenzio proprio sì infatti quante stanze ha la sua casa una decina alla faccia è grande e lei o chi ci vive da sola da sola da sola la sua casa ha una terrazza ma certo e quindi è fresca d'estate no sì adesso deve rispondermi una domanda la faccia sono pronta che me la fiderebbe una stanza che cosa mi oppongo vostro onore la domanda non è pertinente e lei la smetta maison si attenga alla procedura vabbè andiamo avanti abbiamo detto che la vittima è morta su questo non c'è dubbio no che vittima sarebbe se no e si dà il caso che anche la vittima vivesse da sola in un appartamento residenziale non è così sì esatto sa che significa questo lo dica lei che c'è un appartamento sfitto no è una vergogna tutto ciò è immorale vostro onore vabbè comunque se sentisce qualche casa è schifo ciao